Pomeriggio ricco, domani ad Agnano con il galoppo delle grandi occasioni per la giornata cru della riunione invernale. Si inizia alle 15.30 con un ingresso ovviamente gratuito. Sì, la giornata più importante del galoppo invernale napoletano e non solo del centro Italia. I tre corse di primo livello nazionale, tre handicap principali di grande tradizione come il premio Agnano, il premio San Gennaro e il premio Ruffo della Scaletta. Ci saranno le migliori scuderie italiane e quindi la possibilità per gli appassionati di ammirare da vicino alcuni dei migliori cavalli italiani sulla pista di Agnano. Nel premio Guido Ruffo della Scaletta, terza corsa con inizio alle 16.35 per i quattro anni d'oltre sui veloci millimetri, se raggiocano le Noterful Power, Lloyd e Capitan Schick. Nel San Gennaro, intitolato alla memoria di Geggio Mazza, quinta corsa con inizio alle 17.35, riservato a tre anni su 1800 metri, se la contendono Sunset Cay, Fritz e Fast Wind. Mentre nel premio Agnano, settima corsa con inizio alle 18.35, per quattro anni ed oltre sui 2000 metri, la corsa dovrebbe essere tutta tra multicolors, Svatantra e appunto, tutte e tre le corse hanno una dotazione di 24.200 euro ciascuna. Si conclude così un gennaio ricco di appuntamenti all'ippodromo di Agnano. Sì, il gennaio è un mese particolarmente ricco perché siamo in piena attività sia con il trotto che con il galoppo e appunto la degnata è in conclusione, è questa bella giornata di corse e ci avviamo poi verso la primavera con i grandi appuntamenti in particolare del trotto, nel mese di aprile e maggio poi avremo il clou del Gran Premio Lotteria di Agnano.